Allora Presidente, questa foto antiquaria tornerà, insomma, però tornerà in una location che non è la sua naturale? No, vabbè, ci sono le circostanze particolari che hanno convinto la Fondazione Alizio in Tour che si sta dando da fare per mantenere questa manifestazione, questa 35ennale, la 71esima edizione nonostante due perse con il Covid per cui sarebbero state 74. Sì, è stata spostata dal 24 aprile per motivi logistici all'8 di maggio e l'8 di maggio c'è questa sperimentazione di fare all'interno del Palazzo di Fraternità che può darsi anche se hanno location, per esempio il 24 aprile è piovuto per cui forse è stato anche bene questo. È un esperimento, io cerco di dargli una mano, quello che posso fare, anche per i rapporti ancora che ho con gli espositori e spero che faccia un ulteriore salto di qualità. Gli espositori come hanno risposto sapendo che la location è sempre piazza grande ma insomma sarebbe cambiata? No, io credo che gli espositori siano contenti anche proprio per evitare le sorprese del tempo, però normalmente le sorprese c'erano d'aprile perché è successo diverse volte. Mi ricordo un anno che addirittura venne una specie di tornado che sbaraccò i banchi, addirittura lì dove sciopero e invece a maggio, l'otto di maggio, dovrebbe essere tutt'altro tempo per cui probabilmente dovrebbe andare tutto bene insomma. Per i visitatori ci saranno regole particolari o potranno accedere tranquillamente? No, io penso che ci saranno, come è successo per il domenica, c'era il vintage, sono stato a vedere, c'era veramente oltre che la quantità di merce incredibile, c'era anche tanta gente che entrava liberamente, non c'era nessuna restrizione per cui, anzi poi il vintage occupava parecchio spazio anche fisico con i vestiti, con il tipo di materiale, i tavoli, la foto antigua si svolge su dei tavoli per cui dovrebbe essere tutto molto più tranquillo. Magari un'occasione anche per visitare il palazzo di Fraterno? No, voglio dire, ripeto, le cose cambiano tutto, non è che ci si può sempre ancorare e vincolare a una situazione, vediamo, domenica se ne riparla.